Ciao a tutti, se un uomo davvero ti ama, fa queste tre cose. Quali sono le cose che necessariamente fa un uomo se davvero ti ama? Allora, la prima cosa che fa è di invertire i codici di piacere e sofferenza. Cioè, è disposto per te a fare delle cose che normalmente non farebbe. Perché se per te fa soltanto le cose che fa normalmente, vuol dire che non ti ama, vuol dire che fai parte della routine. E quindi non c'è nulla di eccezionale. Se non mette energie, se non mette forza nell'impegno per conquistarti e per relazionarsi con te, vuol dire che non sei in grado di farlo innamorare e lui non si è innamorato per motivi suoi di te. Quindi devi mettere dei vincoli, devi mettere delle condizioni, inizialmente che siano all'interno dell'indice di tolleranza, cioè che lui è disposto ad accettare. Poi piano piano li fai crescere, perché più cresce il vincolo, più si coinvolge. Poi c'è un'altra cosa che fa un uomo che ti ama, che necessariamente fa un uomo che ti ama, oltre a fare per te delle cose che normalmente non farebbe, si fida di te, non è geloso. Cioè si fida, perché se uno non si fida, sta tranquilla che significa che non ti ama. Ma la gelosia non è sinonimo d'amore, la gelosia è sinonimo di possesso. Quindi se tu vuoi uno che ti possieda, allora cercati uno geloso. Ci sono persone che vogliono uomini che le possiedano, che le dimostrino, diciamo, anche carcerandole, diciamo così, che le amano. Ma non è amore quello, quello è tutto meno che amore, è tutto il contrario dell'amore. Quindi tieni presente che se un uomo ti ama, ti dà fiducia, piena fiducia in te, e non manifesta gelosia. Non è che dici questo non deve derlo, quello non deve derlo, quell'altro non deve derlo. Anche se, diciamo, ci sono magari delle situazioni in cui tu puoi magari incontrare altri uomini per così. Perché se lui non si fida e deve controllare tutto quello che tu fai, non è amore quello. Poi un'altra cosa che fa necessariamente un uomo che ti ama, è cerca di supportarti davanti agli altri e anche privatamente. Cioè perché ci sono spesso uomini che davanti agli altri ti trattano bene, poi in privato ti trattano male. E questo è una dimostrazione di non affetto. Cioè ti trattano male nel senso che non ti prendono in considerazione, ti trattano un po' come una stupida, come una che non sa niente. Non ti valorizzano. Non ti valorizzano, magari sì, pubblicamente ti valorizzano, ma più che altro per una questione egocentrica, per far vedere che scelgono donne importanti. Poi dopo però ti trattano, insomma, privatamente, dandoti poco valore. Ecco, un uomo che ti ama ti dà valore in qualunque circostanza e dalla tua parte. Ecco, queste tre cose sono essenziali, indispensabili e deve per forza farlo un uomo che ti ama. Se non le fa, o se non ne fa una delle tre, significa che non ti ama. Significa che è un'esigenza, magari gli vai bene da un certo punto di vista, ma come manifestazione profonda d'amore nei tuoi confronti non ne ha. Bene, per questo video è tutto. Iscriviti al canale e seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao a tutti!